Buongiorno, io vorrei firmare questa legge di iniziativa popolare, come posso fare? Prego, venga, si accomodi. Qui c'è l'iniziativa e qui puoi mettere tutti i dati. Devo mettere i miei dati? Assolutamente, nome e cognome, data di nascita, località e carta di identità e la firma. Si può firmare solo qui al comune, direttamente nella sede del comune? Esatto. È contro la propaganda fascista e nazista la proposta di legge depositata in Cassazione dal comitato promotore dell'iniziativa, presieduto da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, paese in provincia di Lucca. Qui siamo a Civitella in Valdichiana, anche questo un comune che ha pagato un tributo altissimo durante le stragi nazi fasciste. Sì, questo tragico eccidio del 29 giugno 1944, che ci ha portato via oltre 140 civili, prevalentemente sono stati uomini, alcune donne, fortunatamente pochissimi bambini, quindi una ferita che è sempre aperta su questo territorio e quindi credo che l'amministrazione abbia il dovere di portare avanti non solo la memoria e quindi far acquisire consapevolezza alle nostre ragazze, alle nuove generazioni, affinché certi eventi non si riperpreterino, ma non solo a Civitella, nel mondo diciamo. Questo è importante, sono importanti i progetti che facciamo continuamente con la scuola e anche l'appoggio a iniziative come queste ritengo che siano un altro tassello per cercare di disincentivare ormai movimenti che riportino sempre più spesso a determinate ideologie che devono essere cancellati dal territorio nazionale. Chi sottoscrive questa legge di iniziativa popolare sostanzialmente che cosa chiede? Chiede finalmente tolleranza a zero nei confronti di coloro che, scellandosi se dietro quelle libertà democratiche che la nostra Costituzione riconosce, invece appunto vanno a inneggiare simboli oppure anche vocaboli che ricordano appunto gli ideali del fascismo e del nazismo. Quindi occorre che vengano perseguiti con sanzioni e questo è quello che prevede il cuore della proposta dell'iniziativa popolare della legge che dovrebbe approdare in Parlamento. Per far arrivare il testo in Parlamento servono 50.000 firme, c'è tempo fino al 31 di marzo.